Giulia Delelli si è sentita male, ecco cosa è successo all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne L'ex concorrente del Grande Fratello Vip2 è influenzata. Tra pochi giorni per Giulia Delelli sarà un giorno molto importante. Il motivo? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne compirà 23 anni. Ultimamente la fidanzata di Hiramani ha parlato abbastanza tra le stories di Instagram rivelando che organizzerà un super party. A quanto pare l'ex Steffina sta preparando tutto in modo minuzioso, ma per il momento si sta godendo una vacanza in montagna. Ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inatteso. Ecco cosa ha dichiarato sul social in cui conta oltre 3 milioni di followers. . Sono traumatizzata, come potete vedere dalla mia faccia. Ho dormito sì o no 3 ore. . Sono influenzata. E sto per partire per il mio compleanno per andare sulla neve. . Non potete capire come sono stata male stanotte. Non mollo. . Vado a fare la valigia. . Nonostante questo la Delellis sembra molto determinata e non vuole assolutamente rinunciare la vacanza col fidanzato. . Giulia Delellis contenta per la vacanza in montagna e del suo 23esimo compleanno. . Attraverso delle stories su Instagram Giulia Delellis ha precisato che domenica non era il giorno del suo compleanno. . E prima che il suo amato Hirama sbarca alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip2 ha confessato questo. . No, non è il mio compleanno oggi. Il mio compleanno è il 15 gennaio. Volevo andare sulla neve e poi festeggiare al mio ritorno. . Cosa farà in occasione del suo 23esimo compleanno? Qualche giorno fa il suo ex fidanzato Andrea Damante ha scritto un messaggio che sembra essere indirizzato alla influencer laziale che vive a Verona. . Giulia Delellis e Hirama, il loro amore a gonfie vele. . . Giulia Delellis e il suo nuovo fidanzato Hirama sono innamorati più che mai. . I loro numerosi followers non vedono l'orac la influencer e il cantante postino su Instagram le foto della loro vacanza in montagna, ma anche del compleanno dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. . . . . . . . . . Ciao